Eccoci al Maironi da Ponte, che si trova ovviamente a Ponte... No? A Presezzo si trova? Che si trova ovviamente a Presezzo. In questa scuola possiamo incontrare... Marian, la dolce bidella teutonica. E' permesso, buongiorno. Buongiorno ragazzi, io vi comunico che domani entrate alle 8.55. I calorosi e amatissimi test di Cooper di Ottobre. Pronti, partenza, via! La strama Maironi, che si tiene in primavera. Il terrificante quadro del sotterraneo. E la porta misteriosa degli spogliatoi femminili, mai aperta. Le fantastiche opere d'arte lungo i corridoi. L'aula dell'otto centrale, in posizione privilegiata. Ma sei tu che disturbi? La giornata a tema. Scelta dai rappresentanti d'istituto. Domani è tema del giorno animali. Domani è tema del giorno pigiami. Domani è tema del giorno lampioni. Certo, il Maironi non sarà a ponte. Ma è sicuramente un ponte tra adolescenza e vita.